Notizia freschissima cari amici, è uscita definitivamente allo scoperto e ha confermato di avere una relazione sentimentale e questo lo abbiamo capito già dal titolo. Parliamo di Regina Baresi che ha presentato la sua nuova fidanzata e parliamo anche di lei che ha un cognome davvero importante, Baresi, no? L'abbiamo già sentito da qualche parte perché non è soltanto figlia VIP ma è anche nipote d'arte. Bellissima infatti la foto di coppia postata dalla ragazza che anche lei ha seguito le orme della sua famiglia prima di ritirarsi che io vi ho proposto come immagine di copertina, ma ora ha deciso di concentrare molti suoi sforzi sugli aspetti più prettamente sentimentali e la sua felicità è alle stelle. La notizia rilanciata dal settimanale Key di Alfonso Signorini e dalla pagina Instagram The People Gossip è diventata subito virale. Regina Baresi ha una nuova fidanzata decisamente molto bella, esattamente come lei. Nella di Lascalia, corredo dell'immagine che va praticamente ad ufficializzare la love story, la giovane ha semplicemente scritto Souvenirs, abbronzatura, sorrisi e allenamento. Si è anche scoperta l'identità della sua dolce metà famosa nel suo stesso ambito professionale. Insomma, siccome vanno così tanto d'accordo è una coppia da fare veramente invidia. Questo quanto scritto su Regina che ha una nuova fidanzata da The People Gossip, che ci fa sapere e ci dice Regina Baresi, ex capitano dell'Inter femminile, trova l'amore con Julie. L'ex capitano dell'Inter femminile Regina Baresi, figlia del mitico Beppe, nipote di Franco, ha trovato l'amore. Il suo cuore batte per la calciatrice francese Julie, con cui sognerebbe in coppia la partecipazione a Pechino Express. Quindi signori, prepariamoci perché sapete che trattiamo di tv, no? Ben presto potremmo anche vederle in televisione, protagoniste di questo programma importante. Classe 91, Regina Baresi ha giocato con l'Inter Milano dal 2009 al 2018, diventando proprio capitano. Dal 2018 al 2021 ha poi giocato con l'Inter, nata dopo l'acquisizione del titolo sportivo dell'Inter Milano. A 29 anni ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo nella stagione del 2020-2021. E inoltre ha anche lavorato come opinionista alla Moviola, ed è uguale per tutti i mediaset premium, quelli che è il calcio, la domenica sportiva, ed è stata anche commentatrice del mondiale femminile di calcio nell'anno 2019. Prima di salutarvi vi faccio sapere che la fidanzata è Julie Debever, originaria della Francia, classe 1988, quindi leggermente più grande. Lei è una calciatrice, gioca come difensore nella squadra Fleury, nonché è nella nazionale transalpina. Ha giocato in passato con le maglie dell'Inter, del Guingamp, del Saint-Etienne, del FCF Yusivi e nella fila del Lenin Beaumont. Tre sono state le presenze con la nazionale femminile francese. E questo, signori, è tutto quello che sappiamo. Vi ringrazio per l'ascolto, come sempre è stato un piacere, noi ci sentiremo alla prossima, sempre questo Pausa Caffè Live, in compagnia di Max.